e voglio ciao siamo qui oggi con un nuovo video oggi ragazzi siamo al frullone campo che avete già visto nell'ultimo episodio di calcetto ignorante a napoli oggi il terzo episodio ma come avete letto dal titolo e visto dalla miniatura sarà con una penitenza specifica chi perde paga il campo perché ho voluto fare questa nuova opzione perché sicuramente giocheranno con più sangue agli occhi a diciamo rispetto all'altra volta che hanno giocato quindi sono curioso di vedere cosa succederà stasera più speciale stanno venendo abbiamo fatto un po tardi stanno preparando qui come vedete alle mie spalle si stanno già allenando che giustamente non vogliono perdere i soldi stasera quindi aspettiamo i ritardatari e cominciamo subito col calcetto ignorante poi ci siamo chi perde paga e lo ricordo e si parte palla subito per benasser e buca entro milano come la cia ma con cui fabiano carica il destro alla per fante si gira il primo gol di goran pandeva e non stai facendo dire la scuccia pensi non capelli quindi gli arancioni già sotto 1 a 0 dopo 40 secondi di gioco attenzione ludovico bella la finta di corpo ancora ludovico 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 se la porta sul sinistro poi destro chiude tutto pande dall'altra parte barra torna dietro da shale boom boom balla ancora per kvara 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 il palo per fabianda l'altra parte pandeva la giocata poi sale chiude tutto col tacco il contropiede ecco sale dall'altra parte per fifa la traversa la seconda palo più traversa finte e contro finte dove conosce a bocca allora ecco qui sale boom sale boom è un 3 contro 1 dall'altra parte per ludovico la para a lei annace con cui kvara scheli ancora i guantoni di ale si lamenta lei annace allora ludovico dentro la palla per sale la tiene in campo cora sale boom sale sale la palla dentro ancora sale boom 1 a 1 di sale boom boom chiude tutto sale ancora per kvara schelia barac vara e mezzo a due kvara scheli a joao felix che arretra di parecchio per il compagno di reparto fa la giocata eccolo qui madonna che palla colpo di testa fuori la palla dentro per ale e annace lo stop ma esce sale dall'altra parte per joao felix allora salgono gli arancioni e da solo ludovico stoppato da benaser esce sale fifa dall'altra parte bella la giocata di fino di kvara schelia doppietta di kvara fifa torna dietro la shale boom attaccato da fiuso l'esterno delizioso per ludovico 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 il tiro quello di fuse ecco qui ancora ale la stupa molto bene di sinistro si riparte eccolo qui ancora shale 2 su di lui la shale chiama la giocata guardate qui lo pesca da solo ludovico in mezzo a due la giocata guardate qui fiuso dall'altra parte per ale se la divora anche ale quindi si resta sul 3 a 1 ritmi forse nati dall'altra parte c'è ludovico sciale pesca il solitario joao felix il tiro bellissimo ma fuori ora sciale studia il piazzamento 1 2 bello sciale ancora di esterno dall'altra parte fifa palla deviata c'è goran qui ora la giocata bella per andrea 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 fius gamer stoppato all'ultimo ancora fiusa a batterla con quella palla dentro ciccata ma volevi farlo confus pesca benasser bello lo scavetto bella la palla per benasser il tacco per ale bella la sua la ale dentro la palla è da solo la parata di ludovico ancora la palla dentro la palla passa in mezzo a due ma torna ancora joao felix dall'altra parte 1 2 che si chiude con sciale joao felix la mentele dei colorati mentre gli arancioni si divorano il quarto gol ancora andrea bella palla per goran spalle alla porta la stoppa guarda la porta e anche negli occhi sciale boom lo sfida giocate finte finte sorplasso che palla dentro per ale ecco qui ancora joao palla deviata ecco la palla dentro di ale illuminante per goran che se la divora anche lui fallo laterale battuto da goran eccolo qui per ale dietro per fabiano andev vede l'inserimento di fabian deviato il tiro c'è sciale bella la palla e quale bella finta bel passaggio la riapre benasserro 3 a 2 quindi meno uno e allora adesso si può fare la rimonta gli arancioni tremano rinvigoriti invece dal gol di benasserro i colorati ecco qui ancora palla di ritorno la giocata di fabiano c'è sciale spalla alla porta la gestisce bene per kvara kvara schiena solita giocata ecco qui ancora sciale boom col sinistro la vuole calciare proprio ludovico ecco qui ludovico di potenza troppo alto a mira un po d'aggiustare palla avanti per fuse gamer è da solo dall'altra parte per ale di annace per fiuso non tira allora possono ripartire gli arancioni bella gioca da qui di joao felix che la tiene in campo ancora dentro per sale boom ne ha due se la porta sul destro sale boom ora goran giocate goran indicazioni da parte di fiuso ai suoi allora riparte goran panna dall'altra parte palla di schius palla dietro per benasserra poi fabian ruiz palla dall'altra parte buona per ale dentro per fuse gamer ecco qui la palla per fifa attaccato subito gran pane subito con la punta la stupa per un attimo ale poi l'12 molto bello degli arancioni e da solo ripartono subito colorati a lei annace bella la palla dentro per fiuso illuminante per goran pandevo il tacco del macedone meno due ancora per i ragazzi di fiuso che ci credono calcio d'angolo battuto sempre da ale vede il posizionamento dei suoi nello stretto giocano qui i colorati ancora calcio d'angolo con cui ancora per benasser 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 per la palla dentro per ale di annace il tiro deviato vara per sale boom sale sale boom capisce tutto fabian ruiz intercette il pallone dall'altra parte per ale ancora ale dietro il pallone la finta di goran poi la palla ancora dentro ale nessuno tiro l'ennesimo palla 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 la sciale alla dentro e da solo la giocata clamorosa di quara scherzo ancora palla per sale boom qui ha fiuso se la porta avanti cerca l'ultima giocata di questa parte dalla palla dentro per goran scarte il portiere goran pandevo rimessa laterale ale qui il tocco di goran pandevo che si destreggia coran pandevo il tiro fuori allora sciale boom o il tunnel a fiuso che però riprende il pallone rimessa abbattuta subito per ale la croqueta non riuscita basta tutto lo spazio per tirare tutti buttato sa quello 3 a poi bravi loro bravissimi hanno più squadra andrei chi perde paga ciao quindi andrei pagaci la cena ma io è arrivato il momento tanto atteso del video ovviamente chi perde paga e il perdente e il signore qui presente ha paradiso di tutta la squadra anche per un avversario tiro questo è tutto se la pensione vande io voglio ciao